Angelo Drusiani, Edmond De Rochel, buon pomeriggio e grazie per essere con noi. Grazie a voi per l'invito. Senta, parto naturalmente con il mercato obbligazionario e è molto interessante questo movimento, anche lo spread vicino a 119 punti base proprio verso la chiusura, il decenale allo 0,96. Che cosa ci indica il mercato obbligazionario? In primo luogo occorre precisare che anche i rendimenti degli altri paesi stanno salendo, in particolare sia della Spagna sia del Portogallo, sono portati oltre lo 0,50% di rendimento, erano molto più bassi, fino a qualche tempo fa erano 0,24-0,25%. Quindi c'è una generalizzata tendenza dei rendimenti a rialzarsi, questo non deve sorprendere, perché bisogna pensare di quanto si sono indebitati i paesi in questa fase, e i paesi non hanno la stessa forza di ripresa economica che possono evidenziare gli Stati Uniti, ancorché i dati a cui lei prima faceva riferimento lasciano pensare che in effetti ci vorrà un po' più tempo di quello che ci si aspetta. Il fatto che le economie di aree euro potrebbero riprendere in maniera non così rilevante come ci si aspettava, fanno sì che il debito possa rientrare in tempi molto più lunghi e di conseguenza è chiaro che i mercati internazionali puniscono questa situazione, anche se non si può fare diversamente in una fase pandemica come questa. Ecco, quindi possiamo dire che per quanto riguarda l'Italia naturalmente l'effetto Draghi è sparito? Io non credo che ci fosse un effetto Draghi particolare, c'era stata forse scommessa sul mercato azionario, forse si era un po' entusiasmati dal punto di vista dei mercati obbligazionari, però non bisogna dimenticare quali sono le condizioni del nostro paese a livello di debito pubblico, e quindi questo fa sì che il rientro sarà abbastanza complesso, abbastanza lungo, quindi è chiaro che in momenti di difficoltà oggi, fra l'altro, verranno proposte nuove emissioni di botte, e poi verranno proposti titoli con durata pluriannale. Di conseguenza è chiaro che il ricorso continuo al mercato, come mi pare, ve l'ho detto anche la settimana scorsa, Benomare gioca un ruolo, non dico negativo, però sicuramente non aiuta i rendimenti a scendere per quanto riguarda il mercato italiano. Quindi io capisco che ci si era illusi, qualcuno addirittura pensava che la differenziale italiana sarebbe arrivata allo 0,50 con il punto tedesco, 50 centesimi di differenza, ma dimenticando che il debito italiano è molto elevato, quindi è molto più difficile scendere per quanto riguarda il differenziale di rendimento di quanto possa accadere per altri paesi. Torniamo invece sui mercati equiti, naturalmente io partirei con l'Europa, perché questa settimana è stata una settimana ricca di conti pubblicati anche in Italia, oggi abbiamo visto Enel, abbiamo visto poi a livello europeo Adidas e così via, se lasciamo da parte Enel naturalmente che ha registrato qualche perdita, la maggior parte delle aziende italiane invece hanno pubblicato conti ben sopra le attese e soprattutto il comparto bancario, se vogliamo citare due nomi principali che abbiamo approfondito, tra l'altro più volte intesa è Unicredit, che cosa ci dice questo per il comparto bancario e soprattutto possiamo attenderci un'apertura ulteriore verso l'M&A come ha suggerito Orsel, il nuovo CEO di Unicredit? Io credo in primo luogo che il sistema bancario potrà nei prossimi mesi beneficiare di un aumento dell'attività tradizionale, cioè quella non solo trading come è stata lo scorso anno che ha portato anche degli utili molto importanti, ma anche l'attività tradizionale perché il ricorso alle infrastrutture, quindi l'aumento delle infrastrutture da parte dei vari paesi aumenterà in maniera imponente grazie anche ai recovery fund e così via. Quindi da questo punto di vista per le banche, per il sistema bancario in generale, che per alcuni anni ha sofferto di un'attività molto ristretta, legata anche al livello dei tassi di interesse negativi, che in prospettiva futura dovrebbero tornare quantomeno verso i positivi, quindi far sì che il differenziale tra gli interessi che le banche incassano e ciò che pagano ai depositanti potrebbe essere molto più positivo di quanto è stato fino ad oggi, quindi due tipologie di entrate, quelle per le infrastrutture, quindi per l'attività tradizionale, e quella per il ritorno positivo dei tassi di interesse nel corso dei prossimi mesi. Quindi l'altro aspetto a cui lei faceva riferimento è quello delle unioni tra varie banche, quindi delle fusioni tra varie banche, rimane un aspetto molto importante perché vi sono molte banche, soprattutto nel centro nord, che sono appetite dalle banche internazionali perché sanno benissimo che il centro nord dell'Italia rappresenta sia dal punto di vista del risparmio sia dal punto di vista dell'investimento una parte di mondo molto interessante. Che cosa possiamo attenderci da ora in avanti per i mercati europei, soprattutto in vista anche da tutto ciò che accade negli Stati Uniti, perché naturalmente l'andamento dipende molto anche dall'andamento di Wall Street, e cioè a Wall Street molto probabilmente ci saranno ulteriori rialzi perché la Fed ha confermato la propria politica monetaria oltre accomodante proprio una settimana fa e non solo, probabilmente rimarrà così perché come abbiamo visto oggi il mercato del lavoro ha tantissimo da recuperare per arrivare, ritornare, forse meglio dire, ai livelli prepandemici. All'indomani della crisi pandemica la Federal Reserve disse che per ritornare alla piena occupazione come c'era poco prima di un anno fa quando esplose la fase pandemica, ci saranno voluti tre anni. Poi i mercati hanno scommesso fra febbraio e marzo di quest'anno che invece la realtà non era questa, che si sarebbe stata una ripresa molto rapida e quindi che i tassi di interesse sarebbero saliti, ci ricordiamo che erano arrivati anche a livelli vicino a un 80% per il titolo decennale con prospettive che arrivasse al 2% in tempi brevissimi, che può ancora accadere per carità. Però come poc'anzi lei accennava, oggi il dato sulla nuova occupazione è abbastanza, non dico deludente, però non è certo in linea con quel milione di nuovi posti di lavoro che occorrerebbero in un paese con 320 o 330 milioni di abitanti, se non ricordo esattamente quale sia il numero, perché è necessario che almeno un milione al mese in questa fase vengano creati nuovi lavori per un milione al mese di persone. Ecco, da questo punto di vista il mercato americano cresce lo stesso perché comunque è la patria della tecnologia e volenti o non volenti anche le infrastrutture se vogliono crescere dovranno utilizzare sempre più la tecnologia. Quindi se là è la sede delle aziende tecnologiche a livello mondiale contraposte ovviamente a quelle del mercato cinese, adesso stiamo parlando di Wall Street, quindi la Cina la lasciamo a parte in questo momento, anche se crescerà credo molto di più di quanto cresceranno gli Stati Uniti nel corso degli anni, magari non quest'anno. Però da questo punto di vista è chiaro che Wall Street in generale, i mercati azionari americani dovrebbero dare la spinta anche ai nostri mercati europei per una crescita che diventerà maggiore di quello che diventerebbe se non ci fosse questo contagio tra Stati Uniti e Europa. Ecco, quindi possiamo dire che ci sarà di nuovo un rimbalzo del comparto tech perché lei stava proprio dicendo che il paese del tech però nelle ultime settimane, ma se vogliamo dire anche nell'ultimo mese, nonostante il Nasdaq sia riuscito a chiudere in rialzo il mese di aprile, però era sotto tono rispetto all'S&P 500 e al Dow Jones proprio in vista di questo recupero economico, questo boom economico che tutti prevedono. I mercati azionari è evidente che sì, sono molto legati alle attese dell'economia, all'attese di come evolverà la situazione economica in prospettiva, ma non va dimenticato che la crescita del comparto tecnologico durava da parecchio tempo, da moltissimi mesi, fino addirittura anni, e quindi una fase di presa di beneficio mi pare che fosse assolutamente naturale, al di là di quelle che possono essere le attese sul futuro dei mercati stessi. Io credo però che la tecnologia rimarrà importantissima a livello mondiale. Ecco, l'unico timore, l'unico problema che io vedo è se negli Stati Uniti ci fosse questa voglia di delistare i titoli cinesi tecnologici e farli spostare nei tre mercati cinesi, secondo me sarebbe un grossissimo errore, però di fronte a certe situazioni di tensioni anche politiche può accadere di tutto. Quindi credo che da questo punto di vista, giustamente lei ha rimarcato il fatto che nell'inizio di quest'anno il Nasdaq è più o meno in parità, sale di pochissimo nei confronti ad esempio al Dow Jones che è salito molto di più, però ripeto che alle spalle c'è una crescita talmente imponente che ripeto una fase di stasi ci può stare. Ottimo, questo era anche un punto molto interessante senza alcun dubbio, intanto le volevo far vedere anche come prosegue la seduta a livello di mercato obbligazionario negli Stati Uniti il decennale ad 1,54, anzi sta oscillando tra 1,55 e 1,54, il che vuol dire che naturalmente se i rendimenti scendono i prezzi salgono, però dove abbiamo visto un impatto importante dopo questi dati macro era effettivamente sull'indice del dollaro perché più la politica monetaria è accomodante più stiamo assistendo ad un depreciamento del dollaro in questo caso. E questa è la sua interpretazione o meno? Questo è un grosso guaio per l'Unione Europea, per l'Eurozona in particolare. Eh sì, direi proprio di sì. Perché da sempre l'Eurozona è considerata uno dei maggiori esportatori al mondo di prodotti sia verso l'Oriente sia verso l'Occidente. È chiaro che se la moneta si rivaluta o si svalutano indirettamente le monete verso cui l'Eurozona esporta, le esportazioni diventano più complesse perché i costi a carico degli importatori aumentano in forma indiretta perché si deve fare la provvista in una moneta che si rivaluta quindi il costo diventa più alto. E questo è veramente un grossissimo guaio e purtroppo tra i compiti della Banca Centrale Europea non c'è quello di difendere la moneta europea. L'Euro non viene difeso, viene lasciato libero di fluttuare. Io credo che questa sarebbe una situazione da sanare. Mi scusi se le interrompo, ma come dovrebbe essere difeso l'Euro? Giusto per capire? Beh, sa, ci sono tanti modi. Si comprano più dollari di quelli che si comprano ovviamente sul mercato. Il dollaro si rivaluta e per conto l'Euro si svaluta. Quindi ci vorrebbe una tensione molto maggiore. La tensione ce l'hanno sensato, però ci vorrebbe una concentrazione maggiore anche su questa tipologia di attività, definiamola tecnica, che però è abbastanza comune nei mercati finanziari internazionali quando una moneta tende a rivalutarsi troppo o al contrario a esalutarsi eccessivamente. Ok, era giusto per specificare come in questo caso la BCE potrebbe avere un controllo, un impatto così forte sui movimenti dell'Euro, che naturalmente loro dicono sempre non è il nostro proprio lavoro principale. Ovvio, stiamo osservando il cambio dell'Euro-Dollaro, però non è il nostro lavoro di definire tra virgolette i target. Intanto le chiedo anche un'ultimissima domanda che riguarda le commodities, le materie prime e naturalmente le criptovalute, perché se abbiamo visto un primo trimestre, soprattutto un ultimo aprile, dove il Nasdaq ha performato bene ma non in maniera brillante, invece possiamo dire che c'è stata una performance brillante delle commodities e soprattutto le materie prime, ma anche le criptovalute. Come interpreta questo rialzo sia dei prezzi del petrolio, sia dei nuovi massimi storici del rame, poi abbiamo visto anche l'oro riprendersi insieme all'argento che è ben sopra quota 27, ma da non sottovalutare anche il platino e palladio? L'aumento di quotazione del rame e company, quindi delle materie prime, è legato al fatto che c'è questa attesa della ripresa economica in tempi brevi che fa sì che ci sia una richiesta molto forte di questi prodotti, perché servono ovviamente per sviluppare l'economia stessa. Quindi questo va nel sulco di quanto si prevedeva qualche tempo fa quando si ipotizzava una ripresa molto forte dell'attività economica. Negli Stati Uniti peraltro questa situazione non è che sia venuta meno, ancora si è convinti che salirà moltissimo l'economia in tempi brevi, però non salirà altrettanto forte l'inflazione, perché la convinzione che i consumi riprenderanno in maniera così forte come ci si aspetta forse è stata sopravvalutata, perché io credo che di fronte alla situazione che si è verificata con la pandemia, per quanto gli Stati Uniti siano un popolo giovane, su questo non c'è un predubio, sia un popolo ottimista, un popolo che è votato ai consumi, comunque oltre mezzo milione di morti, di decessi, scusate, e qualche segno nelle famiglie lo lascia, quindi ci sarà anche forse una più attenzione a risparmiare per confrontare un futuro che potrebbe anche ripeterci questa situazione, non è che da oggi a domani sparisca, poi non torni più, quindi speriamo che sia così, ma non è detto. Mentre invece per quanto riguarda l'oro e l'argento sono così definiti beni rifugio, e quindi molto spesso salgono quando si teme che sull'economia ci possano essere delle fasi transitorie o difficili, qui è un po' una sorta di, non dico scommessa, però a fronte di economie che ci si aspetta in rialzo, si dovrebbe ipotizzare che sull'oro e sull'argento gli investimenti siano modesti, di fatti se lei guarda, nell'arco di questi mesi ha riuscito sensibilmente la quotazione dell'oro. Ora sta tornando perché, ad esempio, quando il Presidente degli Stati Uniti dice togliamo i brevetti, o sospendiamo i brevetti alle aziende farmaceutiche, è chiaro che si crea incertezza, queste sicuramente non saranno d'accordo, poi il Congresso non sappiamo se lo approvi o meno questa proposta, sempre che venga portata in Parlamento, e quindi se si crea di nuovo incertezza a venire, non nell'immediato, ma nei prossimi mesi, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, quello che sarà, è chiaro che la ricerca di bene rifugio riprende davvero una certa forza e l'oro, l'argento, soprattutto l'oro da sempre, è considerato un bene rifugio in assoluto. Ecco, lei ha menzionato la questione con i brevetti, naturalmente è importante, ultimissima domanda proprio in un flash, questo recupero del comparto biotech oggi che stiamo vedendo a Wall Street, ma tutti i titoli, soprattutto che ieri hanno subito delle fortissime vendite, in particolar modo Pfizer, BioNTech, Moderna e così via, oggi sono in recupero, come bisogna interpretarlo? Che questo non passerà all'incongresso? Io ho l'impressione che sarà una battaglia abbastanza complessa e difficile, credo che anche all'interno dello stesso partito, non solo nei repubblicani ma anche nei democratici, ci siano parecchie perplessità, ma soprattutto bisognerà vedere come reagiscono queste aziende, perché sono aziende molto importanti, dalle quali credo che il governo americano, in caso delle tassazioni abbastanza elevate, anche perché i guadagni sono fortissimi, è vero che il Presidente ha detto che molti guadagni sono tassati poco, non so a quale tipologia di comparto si riferisse, e di conseguenza di fronte a queste situazioni è chiaro che l'impressione che ho io è che ci possa essere una forte opposizione sia da parte delle aziende, ma anche da parte del congresso che ritengo sia contrario a togliere questi brevetti ad aziende che infestano tantissimi miliardi continuamente per trovare nuove soluzioni alle medicine. Beh, dipende quale parte del congresso, perché l'estrema sinistra della parte democratica invece è quella che proprio spinge sia sull'aumento delle tasse, della tassazione, ma anche su questo genere di politiche un po' che si avvicinano, io non vorrei dire parole grosse, ma addirittura politiche socialiste. Sì, però io credo che negli Stati Uniti solo pronunciare la parola socialista scappino via tutti o quasi, non ho l'abitudine nostra europea. Sono d'accordo, però bisogna dire che l'estrema sinistra ha anche un margine importante all'interno del Partito Democratico. Io la ringrazio, Angelo Drusiani, Edmond De Rochel, grazie e buon weekend. Grazie, arrivederci.